Buongiorno a tutti senza microfono perché siamo pochi e quindi tre minuti faremo anche meno scelta. Abbiamo voluto fare questa conferenza stampa invece che in quest'ora come stati ospiti tante volte l'abbiamo fatta qui proprio per confermare l'accordo che c'è tra le forze dell'ordine tutte comprese le fuoco e il personale sanitario in occasione dell'evento delle festività e tutte le problematiche che ci sono sempre state quotidiane. Sperando che questa iniziativa